Per coordinare la ricerca scientifica e il trattamento delle porfirie da qualche anno è stato creato un network europeo che si chiama European Porfiria Network che riunisce oramai alcune decine di centri che sono poi tutti quelli più importanti. Noi ci siamo fatti spiegare cosa fanno questi scienziati, questi clinici, dal presidente del network e dal professor Sverre Sandberg che abbiamo incontrato qui a Milano in occasione del congresso internazionale sulle porfirie e le porfirine. Professor Sandberg, prima di tutto, cosa è l'Europa Porfiria Network? Chi sei? L'Europa Porfiria Network è un'associazione e un'entità legale per tutti i centri di porfiria in Europa ma anche per i centri di porfiria in Europa. Quindi abbiamo circa 60 membri per ora, la maggior parte di Europa, ma anche in Stati Uniti, Australia, Africa, Sudese, Asia e così via. Quindi 60 centri di centri di centri in questo network? Sì, circa 60 centri di centri di centri in questo network. E anche abbiamo corporativi membri che sono molto importanti per noi perché possiamo comunicare con tutte le nuove compagni di droghe che possono portare droghe ai pazienti. Ma qual è il scopo di questa organizazione? È il risultato scientifico, quindi per fare la ricerca, per migliorare la assistenza clinica dei pazienti, o è qualcosa di altro? È, come hai detto, è il risultato. È per sviluppare e promuovere la ricerca e il risultato in questo campo di porfiria. E noi abbiamo chiesto tutti i membri che ci sono più importanti per loro. E poi hanno chiesto che ci sono più importanti per noi è che sviluppare la clinica e la laboratorio di guadagnosti per chiudere e per chiudere le pazienti con la porfiria. Quindi noi abbiamo sviluppato, abbiamo creato, abbiamo creato 5 diverse gruppi, una gruppa di guadagnostica, la laboratorio di guadagnosti, e anche per aiutare le pazienti che vogliono con la porfiria. Abbiamo due lavoratori di clinica, uno per la cutanose porfiria, uno per la acutate porfiria, e anche per aiutare le guadagnosti, e anche per aiutare le proprimezioni di proprimezioni, per che le persone di altri paesi possono visitare più diversi paesi, o più diversi paesi in la porfiria, per aiutare. Abbiamo un gruppo di risultato di risultato, per promuovere il risultato, e abbiamo un gruppo di lavoro per promuovere, o per fare un website, dove ci sono stati, per i pazienti, per i pazienti, per i pazienti e per i pazienti. From your point of view, that is a global one, it's improving the assistance, the management of this very difficult to treat diseases? I think we have a good potential to really improve the benefit for the patients, which is our main objective, of course. So I think this organization is actually, as an association, very new. We started two years ago, and before that it was a European Union project, but now it's a more legal association, so we are more, well, we have more people with us now, and we are going very fast onwards, actually. One important question, how about Italy? Italy is participating to this network? Absolutely, and Italy has a very lot of very good porfiria centers here in Italy, and Nica Capellini is also on the board of this EPNET organization. So we have a board with, well, as usual, a board, I'm the president of the board, and we are board members for different European countries. Thank you.